Dobbiamo passare al Senato, come viene composto, qual è il nuovo Senato che prende posto? La seguo su tutto, professore. No, allora, parliamo... Eravamo già d'accordo, allora, parliamo... Cosa ritiene sia sbagliato il professor Gustavo Zagrebelsky nella formulazione del Senato, così come dalla riforma costituzionale... Allora, intanto diciamo che non è vero che quelli del no, o molti di quelli del no, tra cui, mi metto anch'io, non spicheremmo una modificazione di questo sistema bicamerale. Ma questa non ci piace affatto. Io stesso ho elaborato una piccola proposta, come lei sa, che non ha... Mi era stata richiesta dalla sua gentile ministra, poi è stata... E' allegata nel libro, tra l'altro. E' allegata in questo libro. Questo per dire semplicemente... Non che mi sia risentito, semplicemente dico che anche noi del no abbiamo le nostre brave proposte. Dico che questo sistema del nuovo articolo 57, per qualcuno che magari a casa ha il testo della nuova Costituzione, è qualche cosa di francamente incomprensibile. Volevo leggere io, professor? Ma no, se lo si legge ci annoiamo tutti. Sì, non penso che stiamo festeggiando pop corn a casa, quindi se andiamo sul punto volentieri, come dice... Lo posso fare io. Come sarà composto questo nuovo Senato? Intanto, non si sa se sarà votato dai cittadini o se sarà votato dai consigli regionali. Noi saremo chiamati a votare sul referendum su questo punto decisivo lasciato incerto, perché l'articolo 57, lei lo sa benissimo... Andiamo nel merito o aspettiamo e rispondiamo a tutto dopo? No, adesso dico che cosa... Come viene eletto il Senato. Come viene... Il Senato è composto da 100 senatori, di cui 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, una percentuale elevata rispetto ai 5 senatori a vita attuale sui 315. Quindi 5 su 100 vuol dire una percentuale più elevata. Di questo si era discusso a lungo e tutti erano d'accordo nell'eliminare questa quota di Senato. E invece qui ricompare. Gli altri 95 sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano. I quali consigli eleggono componenti del consiglio medesimo, quindi scelgono tra di loro e scelgono un sindaco per ogni regione e per ogni consiglio provinciale. La regione Trentino Alto Adige gode di un trattamento di grande favore perché si considera non una regione unitaria, ma le due province le quali eleggono ciascuna un senatore e un sindaco. Quindi il Trentino Alto Adige come regione ha quantomeno quattro rappresentanti, che è una sovra rappresentazione rispetto ad altre regioni. Il principio di uguaglianza qui è poco rispettato. Ma non si sa in realtà questi soggetti da dove provengono. Perché il quinto comma di questo articolo 57 dice, ve lo leggo, la durata del mandato, quindi questo quinto comma riguarda la durata, questo è l'oggetto, dei senatori, coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Quindi quali sono le istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti? I sindaci provengono dalle istituzioni territoriali comuni, ma non sono stati eletti, perché saranno stati eletti dal Consiglio regionale. quindi, dunque, dai quali sono stati eletti in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. Quindi questo vuol dire che quando scade il mandato principale come sindaco o come consigliere regionale, si provvede a rinnovare la composizione del Senato, e quindi non sarà un Senato stabile. Fisso ma ballerino, diciamo. Scusi, ne approfitto perché qui si tratta di dare delle informazioni che possono essere utili agli elettori. Ma questo fatto che non è fisso ma mobile nuoce l'autorevolezza, secondo lei, dell'istituzione? Nuoce fondamentalmente. Se noi pensiamo a quali sono i compiti del Senato, anche il Presidente Renzi diceva che il Senato, rispetto alla Camera, occuperà una posizione, si può dire secondaria, defilata, di minor rilievo, possiamo dire così. Appena mi fa parlare, avendo fatto questa è la sesta domanda, spero di essere preparato per rispondere a tutto. Siccome lei l'ha detto prima... Appena mi fa finire... Al ruolo minore, al ruolo minore, si riniesce ogni 20 giorni. A una settora mentana manda la pubblicità, per cui sia un modo di rispondere anch'io. Questo Senato, composto da sindaci, eletti per fare i sindaci, consiglieri regionali, eletti per fare i consiglieri regionali, dovrebbe fare le seguenti cose. Rappresentare le istituzioni territoriali ed esercitare funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, articolo 70. Concorre all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea. Valuta le politiche pubbliche, l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti della legge e verifica l'attuazione delle leggi dello Stato. Un compito immenso affidato a un'assemblea di persone elette per fare altre cose, le quali si dice si raduneranno una volta ogni 20 giorni o una al mese. Questo non è scritto nella legge. Poi il Presidente non avrà bisogno di chiedere il permesso per occupare tutto il tempo che vuole. Qui una critica che viene fatta normalmente è che queste persone che hanno già un compito, un munus, parlo da giurista, come sindaci o come, a questi si attribuisce un secondo munus. C'è una questione materiale, come fanno a esercitare sia l'una funzione che l'altra, ma c'è un problema giuridico che secondo me paralizzerà questo meccanismo. Posso spiegarlo?